Non mi nevo che ogni volta che presentiamo un progetto per questa azienda aggiunge un tassello, un valore aggiunto a quello che è il diritto allo studio, perché la mission di questa azienda è questa, per me è sempre una certa emozione, sono una persona che si emoziona facilmente, perciò non vi nego che è una bellissima cosa. Questo progetto che oggi viene presentato è l'espressione di quelli che sono gli obiettivi di questa azienda, quello di fare in modo che lo studente che sceglie la città di Teramo per conto formativo sa che in questa città ha un'azienda che è molto attenta, in modo particolare è attenta a tutto quello che è l'innovazione, per fare in modo che lo studente vive nel benessere più a suo luco questo percorso. Questo progetto è uno dei tanti che abbiamo presentato nel passato, quello della Messa di Sicurezza della Messa Universitaria, uno dei primi progetti fatti, una prima organizzazione in emergenza coronavirus, se voi sapete il momento difficile che è se si passava e praticamente noi abbiamo creato all'interno della Messa tutto un sistema di sicurezza. Il carpooling vuole essere un proseguio di questo. In pratica questo progetto si pone alcuni obiettivi. Un obiettivo è quello di permettere allo studente di socializzare